Ecco qua il confine con il Guatemala, qua c'è la bandiera del Messico, là così la bandiera del Guatemala. Ciao ragazzi, siamo arrivati al Lagos del Monte Bello, siamo al primo Mirador, Laguna La Cagnada, vamos! Eccolo qua con il nostro boss Carlos, la leyenda Carlos! Vamos! Adesso ne saliremo su questa scala che ci porterà fino al Mirador. Wow! Che spettacolo! Lì sotto praticamente si può prendere questa zattera di tutti i legni senza motore e si fa il giro di tutto il lago. Qui proveremo la carne assada, la carne alla griglia e il formaggio fuso direttamente prodotto da loro. Siamo ancora al lago del Monte Bello. Guardate che spettacolo il posto! Ma che bello! Che bei posti! Entriamo nella cucina! Hola! Oh wow, guardate! Carne alla griglia! Che spettacolo! Wow! Grazie, questo ragazzi è il formaggio tipico messo nella foglia di banana. Che spettacolo! Fuori piove e noi siamo qua seduti con il fuocherello. Mamma ragazzi, che esperienza! Sparando il mio piatto, come vedete, con tutte le guarnizioni, anche i fagioli. Wow! Guardate, dove siamo? Vediamo come è il mio piatto, il mio riso. Grazie! Grazie! Si, c'è tomata, cacolata, cioccolato, poca manzianita. Comodori, riso, fagioli. Spettacolo! Essendo a confine con il Guatemala non potevamo non bere questa birra guatemalteca. Guardate, Guatemala, questa è una birra del Guatemala. E questo è il formaggio fuso che, appunto, producono loro. Questo invece, ragazzi, si chiama il chorizo, un tipo di salsiccia, fagioli e riso e chorizo e zucca. Mamma mia! Le tortillas faccio a mano un momento. Esatto. Facciamo con un piccolo tappus. Passeo a tagliarmi al momento e vuol dire quelli che si chiamano di salsiccia. Buon appetito! Siamo arrivati al confine con il Guatemala. Grazie a Carlos. Adesso vi faccio vedere che spettacolo di posto. Ecco qua il confine con il Guatemala. Qua c'è la bandiera del Messico. Da così la bandiera del Guatemala. Qua c'è il limite dello Stato Unito Mexicano e gli Stati Uniti Messicani del Messico. E se invece noi attraversiamo... Boom! Siamo in Guatemala. Benvenuti a Guatemala. Questa alla mia spalla si chiama Mojo Nera. Cos'è? Divide un paese dall'altro. Quindi qua siamo in Messico. E se vado di lì... Siamo in Guatemala. Sendo in Guatemala praticamente... Cosa faremo adesso? Compriamo la felpina del Guatemala. Come la mia che io l'ho comprata qualche mese fa quando sono venuto qua la prima volta. Andiamo a vedere. Questa è tutta l'artesania guatemalteca. È molto simile alla messicana, però è un po' diversa. Guarda. Sono fatto il shopping. Siamo in Guatemala. Guardate cosa ho comprato. Che bella. Eh? Carina, eh? Troppo tutta... Fatta a mano, eh? Bella, bella.